eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi e buona domenica come sempre supportate il video lasciando un bel mi piace mi raccomando ci tengo tantissimo io soprattutto mi aiuta anche a far crescere il canale grazie perché abbiamo superato gli 87.800 dai che andiamo verso gli 88.000 condividete il canale con tutti i vostri amici invitate i più amici possibili per raggiungere l'obiettivo prima di iniziare vi ricordo di salvarvi il primo link in descrizione che è la mia collaborazione con Enebba così si permette tantissimi soldi ogni volta che dovete comprare un videogioco nuovo video gioco del passato abbonamenti gift card chi più ne ha più ne metta salvatevi il link così ogni volta che fate un acquisto con quel link mi supporterete e poi vi ricordo domani torniamo nuovamente in live alle 14 piattaforma viola grazie veramente anche per ieri per il supporto nella live pomeridiana ma partiamo perché vi devo dare diverse chicchette perché state vedendo il juggernaut ragazzi dei vecchi tempi di verdansk a proposito di verdansk andatevi poi a vedere a fine tg code domenicale il video di ieri se ve lo siete perso perché vi ho riportato tutte le informazioni in anteprima di quello che sarà la nuova verdansk in arrivo a fine 2024 chiusa parentesi il dataminer semtex leaks ha trovato nuove stringhe di gioco dopo l'aggiornamento 1.35 con due novità in arrivo una come modalità in arrivo su warzone una come novità in arrivo sul multiplayer di mv3 per quanto riguarda warzone sembrerebbe che sia in arrivo la modalità juggernaut roialla che molti di voi si ricorderanno e che ci faceva in alcune volte anche in bestialire mentre tornerà un colpo in canna nel multiplayer di mv3 date ancora non conosciute ieri ragazzi anche nella live e nei commenti dell'ultimo tg code mi avete chiesto ancora informazioni sulla questione shadow ban che questa settimana sono aumentati tantissimi ma al momento activision non ha dichiarato nulla a riguardo io li ho contattati nuovamente sui social taggandoli scrivendogli e tutto quanto spero di ricevere un'informazione ma come vedete sono anni soprattutto da quando c'è la gestione di warzone che sullo shadow ban non rilasciano dichiarazioni a riguardo non appena avrò informazioni spero di potervi dire qualcosa ma da quello che so io comunque questa settimana c'è stato un aumento assurdo di shadow ban e molti iscritti della mia community me l'hanno segnalato e si sono beccati ingiustamente la segnalazione ma al momento ragazzi bisogna solo aspettare activision non possiamo farci nulla se siete giocatori invece su playstation vi do una notizia molto curiosa da ieri e per tutt'oggi potrete giocare a tutti i titoli che hanno ovviamente l'online su playstation 5 e playstation 4 senza ovviamente il playstation plus quindi ad esempio se avete model warfare 3 e non avete l'abbonamento potete giocare oggi tranquillamente tutto il giorno all'online quindi approfittate di questi due giorni o meglio oggi del giorno appunto della gestione mentre ieri tramite un exploit molti utenti mi hanno segnalato che la ray gun è presente nel multiplayer e ovviamente questa cosa sta rovinando le lobby online perché la ray gun è over the top veramente devastante vi ricordo che quest'arma è attesa solo e soltanto nella nuova modalità vortex che ancora deve essere rilasciata in occasione della season one ma c'è questo cacchio di problema e quindi ovviamente attenti ragazzi al multiplayer che vi può rovinare l'esperienza di gioco se beccate qualcuno a riguardo vi faccio vedere invece la prima immagine in anteprima che mi è arrivata ieri che è il nuovo combat pack che potrete ottenere dal 13 di dicembre se avete il playstation plus e quindi lo potrete utilizzare su mv3 e su world sarà un bundle gratuito il primo dei sei bundle perché anche quest'anno sembrerebbe che siano incentivati a fare sei stagioni da riscattare una ogni season poi ovviamente dal prossimo anno con la gestione trailer che è code 2024 che scadono i contratti commerciali tra playstation e ovviamente call of duty questi bundle dovrebbero meglio i bundle di code 2024 dovrebbero cominciare ad arrivare anche in concomitanza su tutte le altre piattaforme altre cose molto gustose vi faccio vedere questa skin che è completamente fuori di testa non ho mai visto una cosa del genere che praticamente è stata inserita all'interno del negozio di code mobile hai mai visto una skin così assurda in un videogioco comunque code mobile nonostante si diceva che doveva morire sembra che continua a supportare una marea di roba continua ad arrivare le stagioni staremo a vedere che cosa accadrà non appena sarà rilasciata a primavera warzone mobile mentre vi dico una cosa molto interessante che è successa ieri sera hanno disattivato il potenziamento da campo silenzio di tomba c'è stato un problema è stato disabilitato in tutte le place quindi non si può più utilizzare il silenzio di tomba come potenziamento da campo non appena avrò notizie ci ritorneremo sull'argomento e vi darò maggiori informazioni mentre altre cose che ha fatto ieri la ravensoft era aumentato la distanza alla quale la stazione di acquisto si disattiverà nel gas e quindi l'ha aumentata a 40 metri anziché a 30 metri questo praticamente l'ha giustificato dicendo ovviamente con questo movimento è molto più semplice andare nel gas per cercare di fare un acquisto per restare un compagno quindi si può arrivare anche a 40 metri ciò dovrebbe consentire quindi un'esperienza migliore per i giocatori che decidono di avventurarsi nel gas e per un'ultima possibilità di effettuare quindi un acquisto inoltre stanno indagando attivamente sui recenti arresti anomali dai pc e prevedono di rilasciare una correzione in un prossimo aggiornamento atteso per questa settimana inoltre hanno dichiarato proprio ieri per l'ennesima volta che i giocatori che hanno acquistato la stagione del black cell ora avranno accesso a tutti i contenuti di gioco fatemi sapere qui sotto nei commenti e stanno indagando attivamente sulle segnalazioni di alcuni giocatori che hanno perso completamente il contenuto delle scorte di acquisizione dopo un'estrazione all'interno di zombies o dopo l'accesso almeno di zombies anche qui fatemi sapere se riscontrate ancora il problema ma una delle domande che mi avete fatto di più in queste ore dopo a quanto pare la conferma di torno di virdas che vi ricordo andatevi a vedere il video supportate anche quello con un bel mi piace in alto a destra ieri charlie intel è arrivata a gamba tesa riportando le date e soprattutto gli archi temporali che dovrebbero appunto riguardare i prossimi code come sapete le prossime mappe come sapete charlie intel è uno dei portali più accreditati sul mondo di club di quindi se da dei periodi vuol dire ragazzi che ci sta prendendo e che sa informazioni vi ricordo che anche loro hanno confermato di aver avuto la notizia del ritorno di virdas che quindi ragazzi su quello non non c'è il minimo dubbio comunque quando arriveranno fortune keep e re bird island allora fortune keep ha dichiarato che arriverà ad inizio del 2024 quindi probabilmente come già vi ho detto poco dopo le ranked di warzone perché penso che le faranno faranno prima rilasciare le ranked come già avevano detto e poi arriverà fortune keep quindi inizio 2024 fortune keep mentre re bird island ragazzi purtroppo mettetevi l'anima in pace ci sarà da attendere hanno dichiarato che arriverà per la metà del 2024 quindi questo fa ipotizzare che arriverà prima dell'estate quindi queste al momento sono le conferme più importanti per quanto riguarda l'arrivo delle mappe così sapete a grandi linee quando arriveranno perché chi diceva gennaio chi diceva marzo per l'anniversario annuale di warzone ok queste invece sono al momento le date più accreditate e se lo dice charlie intel come già vi ho detto la cosa è molto certa poi ovviamente sta sempre in mano ad activision che può cambiare le carte può invertirle eccetera eccetera però vi terrò aggiornati a riguardo anche io ipotizzavo re bird island per la metà del 2024 perché faranno in modo di giocarla prima su warzone mobile che arriverà a primavera e poi più tardi anche sul warzone principale come la stessa cosa su bird dance che al momento la carta vigente per spingere la gente a provare warzone mobile e poi portarla a fine 2024 e con questo chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty lasciate un bel mi piace iscrivetevi mi raccomando se siete nuovi e noi ci vediamo domani per un nuovo video